Buddha ha rivelato in un modo elaborato che ci sono 84.000 afflezioni mentali e quindi ci sono 84.000 tipi di insegnamenti e tutti questi insegnamenti e poi possono essere anche catalogati nei tre canestri nel Tripitaka e tutte queste ogni singola parola è per domare la mente per a che fare con la mente e il modo di fare quello è di meditare sull'impermanenza e la morte e questi sono gli insegnamenti incredibili e aiutano a eliminare e lunga questi insegnamenti sono per domare la mente gli studenti hanno studiato tanta filosofia tante parole e però l'hanno assolutamente applicata nella loro mente ecco ve l'ho detto questo tutto questo non deve essere soltanto dei pezzi di carta questi sono i fondamenti per far sì che gli insegnamenti siano di beneficio per voi questi sono i fondamenti per rinunciare all'attaccamento agli attaccamenti alle precauzioni mondane per eliminare tutti quanti problemi da dove tutti quanti problemi derivano migliaia 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 di problemi vengono da quello ecco e dobbiamo come comprendere come eliminare questi come domarli e questo questo è il mondo come domare la propria mente e come far sì che gli sementi aiutino la mente questa è la base la base proprio lì è come distruggere distruggere il concetto della permanenza distruggere il concetto della permanenza e perché da quello dal concetto della permanenza sorge la rabbia il rancore e tutte quante le altre affezioni ambientali dobbiamo eliminare queste e anche senza parlare della verità ultima questa è veramente la base e così vedete potete eliminare il concetto errato che porta tutti quanti problemi nella vostra vita e portate così pace nella vostra vita incredibile pace voglio dirvi tutte queste cose qua mi avevo già parlato di queste cose molte volte comunque quindi avevo già spiegato tutte queste cose qua e devo ripetere ancora e poi anche queste sono anche la base per dell'addestramento mentale la base dell'addestramento mentale dell'ambri anche se il l'ambri e tutto il l'ambri è addestramento mentale ma questa è la base di questo è proprio questo sentito l'addestramento mentale non volete praticarlo voi è bello sì però non praticate ecco questo sì va bene è bello bello però lasciate perdere così sì sono dei belli insegnamenti belli dei libri sì 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 sì